E' morto il re della tamurriata Marcello Colasurdo, musicista molisano, 68enne, trasferitosi in giovane età pomigliano d'arco. A ricordare il grande musicista durante l'evento di beneficenza che si è svolto nella serata di ieri al Nabil Exclusive Beach Club, il musicista Angelo Iannelli e il giornalista Gigione Maresca. Dobbiamo fare un ricordo di Marcello Colasurdo che è un grande del sentimento popolare. Lorenzo è uno che crea, facciamo un gioco di parole con il suo cognome, che crea aggregazione e amicizia. E io vi ringrazio molto, cambio Flegreina TV sul pezzo, grazie Maria Teresa, grazie all'operatore e grazie a voi che date spazio a chi ama fare giornalismo e spettacolo come Angelo Iannelli. Sì, Marcello, l'ultima voce viscerale del Vesurio, il re della Tammorra, presidente onorario della mia associazione culturale Vesurius. Diciamo che il mondo oggi piange la scombasta di Marcello, tutti noi abbiamo un po' anche il cuore triste. E stasera è giusto che ne parliamo, è giusto che la sua musica diventa eterna. Tutti sappiamo che ha suonato con Peter Gabriel, ha fatto tanti film anche come attore. Spero che io, Angelo Iannelli, quanto prima possa organizzare qualcosa per lui e ricordarlo.